Voci.fm, il sito delle voci. Partner. Voxil Voce Gola. Tutta l'energia della tua voce. voxil.it Pino Insegno, Luca Ward. Gran premio del doppiaggio. Allora, Pino, tante novità quest'anno, addirittura un rapporto sul doppiaggio. Ci riassumi un po' che cosa dice questo rapporto? Cose belle o cose brutte? No, cose belle, ne stiamo parlando anche con Luca e con gli altri colleghi già da un po' di tempo, di cercare di dare una dignità importante. Che merita questo doppiaggio? Come i vini importanti, c'hanno il doc, come c'è il dop, come ci sono cose col bollino, anche il doppiaggio vero e originale gli andrebbe dato il significato giusto. Tu vuoi fare un doppiaggio serie A a questi costi, a questo modo, a questi tempi, soprattutto, non mi sbaglio Luca, correre non ha senso e rovinare le serie non ha senso. Cercare di dare una dignità a questo lavoro molto amato, molto di più di quello che ognuno di noi pensa. Tantissima. Allora bisogna dargliela, assolutamente. Per cui ci sono queste novità, un rapporto, c'è un ministro. Una campagna? Una campagna, stampa, video, eccetera. Un ministero molto attento, un ministro. Per cui sono molto contento quest'anno di aprire questo gran premio con Luca. Per un motivo bellissimo, sia perché Luca è veramente un personaggio straordinario, un amico, una persona molto attenta, di grandissima professionalità e grandissima umiltà. Ed è bellissimo collaborare. E poi perché dovrà dare un premio importante a una persona importante. Un premio alla carriera consegnato a? A Pino Colizzi, quello che mi ha preso sotto la sua ala tanti anni fa e ho avuto la fortuna appunto di andare proprio sotto l'ala di una delle aquile che volava più in alto. E quindi meglio di così non poteva andare. Capito. Io mi sono dovuto accontentare che seguì Luca, ha seguito un'aquila, qui ho dovuto prendere una cosa razionalizzata, per cui sono diventato meno bravo perché ho seguito solo lui. Il doppiaggio, Luca, come stiamo messi con il doppiaggio? A parte tutte queste novità di cui abbiamo parlato, ci sono dei rischi. Abbiamo sentito insomma che c'è un po' di troppa libertà, forse si va sempre di corsa e quindi ne va della qualità del doppiaggio italiano. Ma in realtà io non vorrei fare allarmismi, ma rischia di diventare una giungla. Ed è un peccato, soprattutto non tanto per chi ci lavora, ma per l'utente. L'utente che giustamente protesta, si arrabbia, perché vuole il doppiaggio fatto bene. In Italia sanno cosa significa fare un buon doppiaggio. Fino a qualche anno fa si entrava dentro una sala cinematografica e non ci accorgevamo nemmeno che un film fosse doppiato. Quindi voleva dire che noi avevamo fatto un lavoro eccellente. Oggi invece stride il doppiaggio, perché è fatto male, è fatto in modo sbagliato, è fatto a costi molto molto bassi e soprattutto cercano di farlo a livello industriale. Il nostro è un mestiere artigianale, non si può industrializzare, è impossibile. Quindi stiamo cercando di rimettere ordine in questo sistema dove poi tutto l'audiovisivo è completamente cambiato. Noi siamo fermi con dei contratti a vent'anni fa, quando tutto quello che c'è oggi di digitale non c'era. Anche perché hai visto quante piattaforme nascono, insomma, c'è Netflix, Amazon, c'è tutto, c'è tutto il mondo, c'è tanta proposta e richiesta e adesso finalmente si accorgono che si doppia in tutto il mondo. Perché alla fine di ogni serie, di serie, di season, eccetera, vedi in quante link è stato doppiato. E per tutti, soprattutto per gli americani, eccetera, il doppiaggio nasce in Italia, anche per noi nasce qui. Allora, loro puntano tantissimo sulla nostra qualità per fare da diapason il resto d'Europa. E noi non possiamo perdere questo primato, da questo punto di vista. Già lo stiamo perdendo un po' dappertutto, nel cinema, nella televisione, in tanti posti. Cerchiamo di non perderlo sempre e comunque dovunque, non è giusto. Siamo bravi, siamo dei gran bravi professionisti. Però chiudiamo con allegria, perché qui c'è una festa. E là, e là. C'è una novità che adesso... La festa, gran premio del doppiaggio. Il spettacolo teatrale di Luca, questo Fulmonti, lui non parlerà con la sua voce, ma lo doppio io. È una cosa bellissima. È una cosa nuova. È una cosa nuova, che non si fa nel teatro, però Luca era stanco, mi ha chiesto questa cortesia, per cui ho registrato la colonna del doppiaggio e lui fa 50-50 con me. Poi se dorme per strada sono problemi suoi. Poi quando vai in radio lo doppi tu, Luca? No, la cosa bella di Fulmonti è che lui non solo mi doppia, ma poi fa anche la parte finale dello spogliarello. Esatto. Che io mi sono rifiutato e lui invece... Esatto, io invece no, perché non mi vergogno io. Io non so qual è la mia realtà. No, ma poi pare che abbia delle doti, insomma, importanti. Sì, eppure mia moglie sta ancora cercando. Ciao! Grazie, buon gran premio. Grazie. Grazie.